Emanuela, 20 anni, finalista nazionale Francesca, 17 anni, finalista nazionale Simona, 20 anni, finalista nazionale Giorgia, 20 anni, finalista nazionale Michela, 19 anni, finalista nazionale Silvia, 19 anni, finalista nazionale Cristina, 23 anni, finalista nazionale Elisa, 17 anni, finalista nazionale Giulia, 15 anni, finalista nazionale Sofia, 19 anni, finalista nazionale Consuelo, 15 anni, finalista nazionale Cristina, 18 anni, finalista nazionale col via 19 anni fino a vista nazionale ci vediamo a termina